aiaiai ok ok ho lento sto computer mamma mia blur sun blur esatto ok un attimo ok allora fammi vedere inizio aspetta vabbè mica può fare così male ma che se rompe ma come diciotto zero due romanaccio ok credo che oggi charles leclerc poteva imitazioni imitazioni 36 e 23 altri spezzoni non ho twitter zrogo zrogo e reaction 23 e 14 ok perché c'è stato un downgrade sono di voce alto con picchi un grade gigante e e la macchina è preoccupante si ma come ti permetti ma poi zazzo ma che macchina è qua 29 29 38 sopracciglio alzato sopracciglio ok facile bene ok ok boom baby vai 22 20 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 21 22 22 22 21 22 22 23 23 23 24 24 25 25 26 27 27 Una battuta Sul no Jerry Bunkers Maglia Dentro Pantaloni Tipo così Ok Ci siamo Twitch Sofi la grande Sofi Voglio dire Alla fine è giusto farlo In un momento in cui Palla Spamovimento di spalla E bestemmie Bestemmie Cazzo